C'era anche la sezione nissena dell'Associazione Nazionale di Polizia di Stato a Stromboli dopo l'emergenza del 12 agosto, con due volontari rispondendo all'appello del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Si tratta di Giuseppe Laspisa e Razio Martini che sono arrivati sull'isola il 19 agosto, dove erano già a lavoro anche i vigili del fuoco, forestali, alpini, oltre alla protezione civile ad un gran numero di volontari. Hanno dato dunque il proprio contributo per cercare di liberare case e strade da fango e detriti. Noi dopo l'alluvione, subito il Dipartimento della Regione Sicilia ha richiesto volontari disponibili a recarsi là. D'altronde, essendo successo il 12 agosto l'alluvione, quindi in periodo di ferie, avevamo anche difficoltà a trovare volontari. Nonostante ciò, io e un altro collega di Caltinissette, Giuseppe Laspisa, eravamo disponibili. Non eravamo, cioè il collega da Spisanzi era pure verico, quindi lui ha sospeso le ferie e rientrato. Gli altri colleghi erano fuori sede, quindi non potevano rientrare. Hanno lavorato incessantemente sino al loro rientro, domenica 21 agosto. Voglio anche ringraziare tutti gli altri volontari presenti. Considere che a Stronpol ogni mattina alle 7 prendono l'alliscafo diverse associazioni. E quindi danno il cambio ad altri che sono presenti. Noi abbiamo fatto tre giorni, c'è chi fa anche un giorno, però è presente. E lì c'è da spavare parecchio. Io partirei anche domani, se arriva. Se capiscono i nostri direttori che ancora servono le necessità, faranno una nuova attivazione. Quindi eventualmente io sono disponibile a partire. E spero stavolta partiremo in modo più elevato, visto che le ferie sono anche finite per gli altri. Non si tratta della prima esperienza di solidarietà e sostegno in caso di necessità svolta dal gruppo di Caltanissetta dell'associazione guidata dal legale rappresentante Vito Antonino Narbonese, come nel caso dei servizi di accoglienza, orientamento e instradamento dell'utenza per chi si recava al lab vaccinale al CEF Pass durante l'emergenza Covid. Siamo già stati terremoto dell'Aquila, siamo stati quando ci è morto il Papa, quindi a Roma c'era bisogno di gestire milioni di persone, quindi noi partiamo sempre. Eventualmente quando serve allestiamo le Tentopoli, i mezzi da campo, perché quando ci attiva il Dipartimento Nazionale ci sono mezzi a disposizione per poter alleviare le sofferenze della popolazione colpita.